Partiamo da un dato di fatto importantissimo. Il tuo primo video probabilmente sarà un disastro. Il tuo primo podcast probabilmente sarà un disastro. Il tuo primo articolo probabilmente sarà un disastro. Il tuo primo disegno probabilmente sarà un disastro. La tua prima foto probabilmente sarà un disastro. Ogni tuo primo tentativo a fare qualcosa di nuovo probabilmente sarà un disastro. Ma non potrai mai arrivare al tuo cinquantesimo podcast, video, articolo, disegno o quello in cui vuoi eccellere senza essere passato per il primo. Alcuni dei miei primi video su YouTube sono ancora su YouTube, per non dimenticare mai da dove sono partita. Erano senza luce, senza microfono, fatti con una flip camera che mi inquadrava spesso dal basso verso l'alto, giusto per non farmi mancare nulla. Chili e Gina sulla torta erano tutti editati da me sui movie. Il risultato ovviamente era tutt'altro che perfetto, eppure quei video, incluse tutte le critiche e i feedback più o meno costruttivi che hanno ricevuto, sono stati l'inizio di qualcosa di davvero importante. Quei video sono stati i primi contenuti a posizionarsi su Google per quanto riguardava il mio nome, e piano piano a permettermi di consolidare il mio personal brand. Ma non è solo questo, quei video sono stati una vera e propria palestra che mi ha permesso di migliorare gradualmente il mio modo di comunicare, di semplificare concetti complessi in poco tempo, e di superare la paura di esformi, diventando ogni volta un pizzico più sicuro, anche se c'è ancora molta strada da fare. Oggi ci sono un sacco di applicazioni e strumenti super accessibili, che tra l'altro semplificano notevolmente il nostro primo tentativo in molte cose, aumentandone anche le probabilità di riuscita. Resta però il fatto che quando partiamo senza troppe aspettative, semplicemente con la voglia di metterci in gioco e dare il massimo con gli strumenti che abbiamo, invece che tentando di apparire perfetti, sarà molto più facile mantenerci costanti nel tempo. E la costanza è la vera chiave dell'eccellenza. Ecco perché in questo video condivido con te tre cose che mi hanno aiutato a superare la paura di fare video sul web. Prima però di entrare nel cuore del nostro video, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questo video da YouTube, attivando il simbolo della campanellina, altrimenti non servirà molto. Se invece stai guardando questo video dal blog cecilasardeo.it slash blog, allora ricordati di iscriverti alle newsletter per non perderti neanche l'uscita di un video. Ma torniamo a noi e alle tre cose che mi hanno aiutato a superare la paura di fare video sul web. La prima è stata condividere i miei primi dieci video solo con persone a me vicine. Questo mi ha aiutato a superare l'inerzia che mi faceva rinviare la registrazione del mio primo video e mi ha anche permesso di ricevere i primi feedback da parte di qualcuno che non aveva interesse ad affondarmi solo per il gusto di farlo. Il secondo è stato buttarmi. Mi ero data come numero massimo di video che avrei tenuto nel cassetto e mostrato solo ad un gruppo selezionato di persone un massimo di dieci perché sapevo che altrimenti sarei andata avanti all'infinito e non avrei mai trovato il coraggio di pubblicare il primo video. Quando è arrivato il momento ho messo da parte ogni desiderio di apparire perfetta subito e mi sono buttata usando però la mia inesperienza come strumento per coinvolgere l'audience a cui mi rivolgevo. Ciò significa che nella descrizione dei miei primi video e a volte nel video stesso aggiungevo qualcosa come conosco bene quello di cui parlo ma produco questi video da sola e non sono una videomaker professionista quindi siate clementi con i vostri feedback più tecnici e concentratevi soprattutto sull'utilità dei contenuti di questi video. Non so tu ma io seguo molti canali su YouTube che mi offrono valore anche se i video non sono un granché. C'è in particolare una ragazza che mi viene in mente che fa video in cui integra yoga e allenamento ad alta intensità due aspetti che a me piacciono molto e la seguo moltissimo. I suoi video però sono spesso mal illuminati a volte si sente la lavastoviglie che fa rumore in sottofondo altre volte qualcuno che suona il campanello altre volte ancora il cane che abbaia a volte l'audio non è un granché la voce ambientale ma il valore di quello che offre va oltre ogni tecnicismo e io personalmente ma non sono la sola la seguo comunque. La terza cosa che mi ha aiutata molto è stata pubblicare solo per condividere valore. Ancora oggi abito di pubblicare video con il puro scopo di pubblicare un video e allora come oggi dovevano sempre essere video utili e preziosi in modo che il valore che regalavano permettesse a chi guardava di andare oltre l'imperfezione tecnica del video in sé. Questi tre accorgimenti mi hanno aiutato a superare la paura di espormi e hanno reso i video lo strumento preferito con cui comunico ancora oggi. Naturalmente non è caduto subito, ci è voluto un po' di tempo e ancora c'è molto lavoro da fare ma non voglio indugiare oltre perché è arrivato il tuo turno di comunicare facendomi sapere se questo video ti è stato utile con un cuore nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. E se usare video per il tuo brand a parte dei tuoi piani e non sai da dove partire vieni a fare un giretto su biz-academy.it la business academy italiana dove puoi far crescere il tuo progetto sul web in modo autentico e proficuo senza impazzire e senza sacrificare la tua libertà. Ti aspetto! Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia-sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce.